Nuovo passaggio in aula per il processo Coingas a carico di 11 imputati, tra cui il sindaco di Arezzo Alessandro Chinelli, l'assessore Alberto Merelli, entrambi presenti, e l'ex presidente di Estra Francesco Macri. La parola ancora alla Digos. Dopo la scorsa udienza in cui il vicequestore Claudia Famà aveva ripercorso per sommi capi i punti cardine dell'inchiesta, è stato oggi il turno del secondo test dell'accusa, il commissario capo Luca Banchetti. L'investigatore ha ripercorso tutti i passaggi salienti delle intercettazioni telefoniche disposte dalla magistratura, dopo che il collegio dei sindaci revisori aveva avanzato perplessità in merito alla congruità degli incarichi delle consulenze, in particolar modo nei confronti del commercialista retino Marco Cocci e dell'avvocato fiorentino Pieretto Leolivetti Rason. Erano state le intercettazioni a mettere in luce l'intero sistema di queste consulenze, secondo l'accusa del tutto fuori dalle righe e manovrato da una sorta di cabina di regia tra le stanze di palazzo comunale. Si è poi passati alla nomina di Francesco Macri, all'epoca già consigliere comunale a presidente di Estra, una figura la sua che era stata definita da alcuni degli altri imputati come troppo ingombrante. Una situazione poi scoppiata nei mesi scorsi con la delibera di Anac che ne ha decretato l'inconferibilità e su cui pende il ricorso al Tar. Grazie a tutti.